Madame Gazella mi ha insegnato tutto quello che so. Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Tutti i miei amici si sono dati appuntamento qui per dargli una mano a insegnarti come diventare un vero attore di cartoni animali. Mi voglio preoccupare, lo sai come sono contento? Lo zio Grosselmeier aveva preparato un dono speciale per la giovane Maria. Allora, bambina mia, pensa che mi ci è voluto un intero... Mi ci era voluto un intero anno per fabbricarlo. Esatto, un intero anno. È un bellissimo bambolotto. Un bellissimo bambolotto schiaccianoci. Ah, ma... Doloso! Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Credo che Banana e la signorina Onei non andranno a vedere la partita allo stadio. Draghetto Daisy, sei stato tu ad attaccare quei palloncini al castello? Che draghetto spiritoso! Guardate questi jackie dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui. Passiamo là di passi! Passiamo là di passi! Grazie.